Avviso scoperto, l'informazione senza veli con Matteo De Micheli. E' importante perché il mio programma è completamente censurato, anche la mia faccia purtroppo, insomma i social non la possono proprio vedere. E una dimostrazione lampante è l'ultima intervista, la penultima intervista, cioè la prima che ho realizzato con padre Gennaro, padre Ghebno, Jesus Mary Missing Beto, pubblicata su Rumble. Ha preso 4.000 visualizzazioni, l'abbiamo pubblicata integralmente su YouTube, siccome non è un'intervista che dà fastidio a questi dei social, adesso ha quasi 45.000 visualizzazioni. Questa è un po' la differenza, insomma ecco, questo è quello che la censura fa, questa è la realtà, io devo pubblicare video su Rumble e quando va bene prendo 1.000, 2.000, 3.000 visualizzazioni, non li posso pubblicare su YouTube, se li pubblico, quando me lo permettono prendono 50.000 visualizzazioni, quindi oltre 10 volte quelle che si prendono su Rumble. Quindi è semplice, andate su Rumble, cercate il canale Radio Roma Television, vi iscrivete a Rumble, mettete nome, dovrete mettere l'email, una password, come su tutti i social. Dopodiché se vi iscrivete al canale vi arrivano le notifiche e su quel canale noi pubblichiamo tutte le puntate andate in onda, perché almeno Rumble non ci censura. Poi un'altra cosa, per qualsiasi segnalazione potete contattarmi, scrivere alla mail avvisoscopertochiocciolaradioroma.it, ve lo ripeto, avvisoscopertochiocciolaradioroma.it. E allora iniziamo subito questa puntata e iniziamo da questo video di Vauro, prego regia. L'informazione in questo paese è diventata pura propaganda e ti faccio e poi chiudo. Due esempi, due. Il direttore di una grande testata nazionale come la Repubblica è stato decorato da Zelensky con la medaglia al merito per la causa ucraina. E anche la inviata Stefania Battistini del Tg1, servizio pubblico, è stata decorata da Zelensky con la medaglia al merito della causa ucraina. Allora io una domandina me la posso fare? Ma se c'è un merito, se addirittura il leader di uno dei paesi in guerra decora giornalisti, vuol dire che quei giornalisti hanno fatto propaganda e non informazione. Allora scusami Vauro, non sono due paesi in guerra, è un paese invaso da un altro e questo è il tema di fondo. Allora, parliamoci chiaro, il pupazzetto di cui parlavo prima, dei fumetti, a bombardare... Che Zelensky? Sì, Zelensky, a bombardare il proprio popolo, non ci ha messo nulla. Ha continuato quello che aveva cominciato Poroschenko. Distrutto... Allora, parliamoci chiaro, a bombardare il proprio popolo, non ci ha messo nulla.